Ma tu sei amica di Yuna? Certo! E come fai ad essere amica di Yuccia? Perché? Perché io e lei abbiamo la stessa insegnante di canto. Ah! E quindi cosa succede? Adesso tu cosa mi fai? Ci sono i miei brani. Ci sono i tuoi brani qui? Allora intanto come ti chiami? Io mi chiamo Gloria Zaccaria. Gloria Zaccaria. Di dove sei? Di Brescia. Gloria Zaccaria di Brescia. Ma suoni anche strumenti tu? Sì, suono pianoforte. Allora bene cosa ascoltiamo? Vorrei farti sentire eroi dimenticati. Eroi dimenticati? Sì. Metto la base o... base? Base. Così me la canti. Perfetto. Eroi dimenticati? Che sogni eroi dimenticati? Lo scoprirai. Ah ok. Allora... che trovi è il coraggio che cresce alla tua stessa età. Sono pazzi i tuoi sogni, alcuni estremi, altri no. Una corsa in salita, un traguardo, una sfida. Poi la vita ti osserva, ti richiama a sé. Grandi questi padri, spesso maltrattati, molti sono speciali, ma dimenticati. Uomini da soli che si inventano la vita, lottando per un sogno fino a che non è finita. Perché danno la vita. Una bacca sulla spalla è il meglio che si può. altrimenti sono donne, e qui piangere non si può. Anche se tutto il dolore è nascosto solo in un bicchiere. Grandi questi padri, spesso maltrattati, molti sono speciali, ma dimenticati. uomini da soli. Uomini da soli che si inventano la vita, lottando per un sogno fino a che non è finita. perché danno la vita. E sono E sono Grandi questi padri, spesso maltrattati, molti sono speciali, ma dimenticati. Uomini da soli che si inventano la vita, lottando per un sogno fino a che non è finita. perché danno la vita. perché danno la vita. perché danno la vita. Non è ancora finita. Ok Gloria, allora ti dico, intanto hai una gran bella grinta e tutto va bene. Forse un po' troppa. Forse un po' troppa. C'hai un po' troppa rabbia. No, è molto sentito questo pezzo. È stato fatto proprio perché rispecchia il mio padre. Questo brano è dedicato a lui. L'ho scritto posto per lui perché è un uomo che ha affrontato la vita veramente con grande forza, nonostante le grandi afferciità e per cui la rabbia che probabilmente ho messo anche in questa interpretazione è perché veramente per dare... perché sono orgogliosa di quello che ha fatto. Forse un po' troppo effettivamente in questa interpretazione. No, no, ma infatti ci metti un carico che è molto forte, capito? Allora abbassirò un po' la grinta e la rabbia. Senti Gloria, tu sei in grado di accompagnarti in futuro? Sì, esatto. Ok, prima quando ho detto che veniva la tua amica mi ha guardato molto male Roberta, per molte volte, non so esattamente come siamo messi. Ok. Però tanto tu rimani qui, quindi poi dopo ci sentiamo. Ok, va bene, grazie mille. Ciao. Ciao. Ciao.